Musica Carissimi lenicesi e carissimi lenicesi, in questi primi sei mesi di mandato abbiamo messo le basi per realizzare questo che è quello che è il nostro progetto per l'ENI, la nostra mission. Colgo l'occasione per augurare a tutti un sereno Natale, anche se mi rendo conto che la situazione economica, soprattutto la mancanza di lavoro, per qualcuno non significherà un Natale particolarmente gioioso. Mi auguro comunque che il Natale porti speranza, sia ricco di relazioni umane e permetta comunque agli uomini, alle donne e soprattutto ai ragazzi di pensare a progettare il proprio futuro. Auguro un sereno Natale anche a tutte le persone anziane che siano coinvolte, che siano circondate dall'affetto di familiari e degli amici, perché credo che questo sia fondamentale, sia il significato vero del Natale. Auguro un buon 2015, migliore sicuramente dell'anno che ci sta per lasciare. Cari concittadini, anche io mi unisco agli auguri del Sindaco, vi faccio tanti auguri per il futuro, per questo Natale e mi raccomando non perdete la speranza, perché il futuro è nostro e solo noi possiamo fare in modo che le cose cominciano a funzionare veramente. Cari Alenicesi, mi unisco anch'io agli auguri di Sindaco e Vice Sindaco e vi posso dire che da parte nostra ci sarà un grosso impegno per tutto l'anno, perché vediamo che le nostre difficoltà, dico nostre, perché sono di tutti, sono da condividere. Cercheremo di affrontarle assieme, perché in questo momento venite frequentemente a segnalarci qualcosa che non va bene. Da parte nostra appunto un grosso impegno, ci ricorderemo soprattutto delle persone che sono più in difficoltà. Buon Natale! Buon 2015! E tanti auguri per buone feste a tutti quanti!